Grandi applausi anche per il Gianfranco Continenza Quartet con la partecipazione di Mark Egan, uno dei bassisti più stimati al mondo, allievo di Jacopo Astorius che ha collaborato tra gli altri con Bill Evans e Sting. Sul palco anche Pierpaolo Pecoriello al sax e Walter Martino, figlio del compositore Bruno Martino alla batteria. Gianfranco Continenza è anche il direttore artistico del festival, chitarrista pescarese tre anni fa ai vertici delle classifiche di vendita americane ha presentato il suo nuovo album Face the Truth. Grazie a tutti